ciao sono orazio bozzini ho 37 anni ho tre fratelli e facciamo tutti parte dell'azienda agricola bozzini giorge figli di valera fratta provincia di lodi la nostra azienda coltiva circa 800 ettari di terreno per la maggior parte l'indirizzo è cerealicolo e per una minima parte abbiamo anche un frutteto abbiamo 700 capi in lattazione e poi abbiamo anche l'energia rinnovabile in impianto di biogase un impianto di fotovoltaico da megawatt di recente oltre al frutteto che la novità degli ultimi anni abbiamo anche un progetto con un formaggio pasta dura chiamato gran milano che verrà e viene distribuito nella grande distribuzione soprattutto nei paesi del nord europa abbiamo acquistato nel 2009 valtra li abbiamo utilizzati in tutti gli ambiti della nostra azienda agricola dalla semina larattura erpicatura minima lavorazione addirittura nel frutteto con i più piccoli abbiamo scelto questi trattori valtra appunto perché qualità prezzo ci sembravano convenienti e adesso nel giro di tre anni abbiamo capito che è un buon marchio e anche col concessionario ci stiamo trovando bene e quindi pensiamo di proseguire la strada con questo marchio di questi nove valtra abbiamo appunto 3s 3t e 3n si va da una potenza di 134 cavalli 4 cilindri fino al più grande che è un s 394 394 cavalli i trattori hanno circa 2300 ore di lavoro quindi più o meno fanno tra quello che ne fa di più e quello che ne fa di meno di ore si fanno circa 800 900 ore a trattore non sono molte ma non sono neanche poi così poche per tutti questi mezzi appunto l'azienda è cresciuta quindi con più ettari con un frutteto con appunto il discorso dell'aumento anche un po della stalla li stiamo sfruttando al cento per cento con i trattori ci stiamo trovando bene gli esse appunto li abbiamo presi per una lavorazione diciamo più pesante tra virgolette infatti usiamo dei dei macchinari anche di grosse dimensioni dischi ripatura e aratura anche con aratros e i vomeri mentre i t li stiamo usando un po su tutti i fronti facciamo anche della fienagione con i t erpicatura ripatura insomma sono multifunzionali mentre gli n li usiamo per le semine per per anche per la fienagione e soprattutto adesso anche nel nel nostro frutteto a spostare alcuni macchinari che ci servono per la frutta per quanto riguarda lo smart farming abbiamo diciamo un buon livello di tecnologia per quanto riguarda la guida satellitare i segnali rtk sbase rtx diciamo che li stiamo utilizzando senza nessun problema prendono benissimo dappertutto e anche se troviamo dei boschi piuttosto che delle piante riusciamo a gestire segnale tranquillamente senza nessun tipo di problema per quanto riguarda appunto invece gli smart touch abbiamo avuto qualche problema di poco conto che però è stato risolto dalla dalla concessionaria rivi e anche da valtra per quanto riguarda il comfort cabina la qualità è eccellente soprattutto dopo tante ore di lavoro abbiamo potuto constatare adesso che questi veicoli sono veramente eccezionali dal punto di vista dell'insonorizzazione della comodità della manovrabilità sono veramente eccezionali tutti tutti e tre i tipi di trattore che abbiamo e quindi le s il t e le n sono tutti identici anche nel nel comfort per quanto riguarda invece la bella manovrabilità è ovvio che gli s sono un po più ingombranti anche per la loro stazza ma non un tiro veramente notevole con il concessionario per quanto riguarda tutte le tecnologie ci siamo trovati veramente bene sono stati veloci precisi e adeguati e anche per quanto riguarda l'officina quando abbiamo avuto bisogno sono stati prontamente capaci di risolverci il problema sempre piccoli problemi ma sono sempre più problemi e per quanto mi riguarda invece le macchine sono bilanciate e settate in un modo equilibratissimo quindi non cambierei niente di queste macchine qua per quanto riguarda il brand valtra io l'ho consigliato parecchi amici e in tanti infatti mi hanno anche seguito ed è stata una bella avventura soprattutto perché adesso siamo in tanti ad avere questo brand e ci scambiamo informazioni di qualsiasi tipo e il mondo valtra sta crescendo dopo tre anni che abbiamo fatto questo acquisto mi ritengo super soddisfatto e andremo avanti ancora per anni con queste macchine mi aspetto tanto buon lavoro nei prossimi anni con valtra auguri e una buona agricoltura a tutti rispادggio lot contacting kalian a tutti risp Arbeits� limpososo